Ecco qui, questo è il femminicidio, vediamo il prima e dopo, una ragazza affacciata alla finestra, prima vediamo che è serena, guardate l'occhio, la bocca, successivamente in seguito alla violenza sulle donne, vediamo la mano, i capelli, il viso perde il suo colorito rosso diventa tutto nero, lungo questa finestra si vede il vetro rotto e poi sopra l'1522 che è il numero verde, si può chiamare 24 su 24, femminicidio, inversione di emulismo, ok? Bye bye!